Quindi partiamo proprio come le cose professionali qua. Allora, io mi chiamo Franco Lanfredi, sono stato chiamato da Sebastiano, dov'è? Che l'ho visto prima, che è andato via, ecco, da Sebastiano, a venire a fare un po' così un escurso su quello che è il mondo del 4K, quindi della elaborazione video con questo tipo di formato. È un formato relativamente nuovo, perché ci permette di avere delle risoluzioni molto alte e la qualità dell'immagine sicuramente è notevole. Diciamo che l'HD, sappiamo che rispetto al 4 terzi in palla, quando c'era ancora la televisione a raggio di tubo catodico, era 720x576. Nel momento in cui è uscito l'alta definizione, siamo andati a 1920x1080, quindi vuol dire quasi tre volte la possibilità di avere pixel sia in larghezza che in altezza. Poi è chiaro che la tecnologia non si ferma, la tecnologia continua ad andare avanti ed è chiaro che l'orizzonte non si sa mai quale sia, o meglio non c'è mai un punto di fine, c'è sempre un punto di arrivo. Adesso parliamo di ultra HD, parliamo di 4K, perché parliamo di 4000 pixel circa. Il circa è perché i formati differenziano a seconda della tipologia del prodotto che viene fornito o anche della casa madre in America, l'Altero e così via. Per venire a noi, io mi sono avvicinato al mondo video da parecchi anni. Ho scritto un libro nel 2002, la prova di grafica e quindi di web design, perché curavo una community web chiamata Web Design Experiments. Diciamo che sono un autodidatta, uno di quelli che ha cercato da solo di addentrarsi in quelle che sono le tematiche del mondo digitale. Non so se è una cosa di grande profitto o meno, però vedo che i risultati ci sono, per cui credo che la mia volontà, la mia passione che mi lega sia un attimino un po' ripagata da quella che è la tensione e la partecipazione di me stesso in questo mondo. Le ore, voi sapete benissimo, sono molteplici che si passano davanti al computer e io mi diverto, mi diverto a elaborare, a fare, a sbrigare. La mia è una continua ricerca, è una continua volontà nell'approfondire cose nuove, tematiche nuove. Devo dire che il 4K mi ha un attimino un po' coinvolto nel momento in cui ho preso questo drone, questo Phantom 2 da Beggio, Andrea, che è un rivenditore qui di Mogliano Veneto, però oltre che essere un rivenditore ha una grande capacità che è quella nell'ascoltare, nel capire le tematiche del cliente, delle persone che hanno bisogno di acquisire tecnologia. Io l'ho approcciato perché avevo necessità, perché non ne volevo più sapere di droni perché quello che avevo nel 2012 è purtroppo andato a finire contro una muretta e è deceduto poveretto, quindi ho detto basta, non ne voglio più sapere di droni. Mentre in realtà non è propriamente così, bisogna metterci sempre a una grande buona volontà e sperare che poi nel frattempo le tecnologie diventino sempre più sicure e professionali. Devo dire che quando ho provato questo Phantom ho detto cavoli di passi ne sono stati fatti tanti rispetto a quello che avevo assemblato Microcopter e la sicurezza sicuramente è un vantaggio enorme, soprattutto quando si cerca di lavorare. È chiaro che cadono giù come peri anche questi, purtroppo l'elettronica ha una sua componente di debolezza, per cui va dato massimo rispetto. Nel momento in cui si prende un apparecchio di questo genere o lo si fa di professione o lo si fa come nel mio caso per diletto, per gioco, anche se comunque sono chiamato a fare dei progetti ambiziosi. Detto questo, nel momento in cui ho preso questo drone e a bordo c'era la GoPro. Anche la GoPro ha subito nel tempo delle notevoli evoluzioni. Io avevo la GoPro 1 che registrava sì in Full HD però con una qualità veramente scadente. Nel momento in cui ho comprato la GoPro 3 Plus ecco che si sono aperti nuovi orizzonti. Io non so quando uscirò la GoPro 4 che tipo di orizzonte ci sarà, però è chiaro che già questo tipo di macchina ci permette di fare degli elaborati con delle grandissime evoluzioni. Evoluzioni sia di grafica ma anche nel campo video. È chiaro che parliamo sempre di un prodotto prosumer, di non un prodotto broadcast professionale. non c'è a bordo di questo drone la possibilità di portare in cielo una Harry, una Red, anche una reflex digitale, una Canon, una Mark II o così via. Però, dico un però, ci permette rispetto appunto a queste reflex di registrare già in 4K. Questo tipo di GoPro registra in 4K a 12 frame al secondo. Sono pochi, sono pochi perché sapete bene che la nostra visualizzazione nel campo visivo ha bisogno di 25 frame al secondo per vedere una cosa fluida. In realtà 12 frame devono essere interpolati in maniera molto sofisticata per poter permettere una visualizzazione congrua. In sostanza si creano degli artefatti perché dove mancano i frame devono essere costruiti, cioè devono essere fatti dalle macchine. Io qui adesso magari ho tanti progetti che ho fatto. Diciamo che, quello che vi dicevo prima, sono sempre in continua sperimentazione. Per me è un continuo progredire, un andare avanti. Per cui io poi finirò questo mio intervento facendovi vedere anche qualche panoramica fatta ad effetto. Sempre perché la possibilità che dà questo drone è molteplice. Se noi parliamo di video e foto, abbiamo la possibilità di farle interpolate come vogliamo. Vediamo ad esempio un video di questo genere. Questo qui è un filmato che però adesso non sentiamo, non so il perché. Vediamo. Prima sì. Ecco io in questo caso sto zoomando su un'immagine in 4K. Ci sono delle sequenze sia girate con una telecamera Sony da fermo, da spalleggiato. Ecco qui invece abbiamo una telecamera sul drone. Questo è un runner che voleva far capire che nella vita non c'è solo mangiare prosciutti, ma anche ci si può dilettare nella corsa per stare un po' in forma. Ciò che non riesco più a fare io. qui abbiamo usato anche la barra stabilizzatrice. Grazie. 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 Ecco qui zoomiamo. zoomiamo perché il progetto è stato girato il progetto è in HD quindi a 1920x1080 però nel momento in cui io ho inserito le sequenze girate con la GoPro in 4K ho fatto una sorta di upscaling cioè vuol dire che in sostanza il 4K è stato importato dentro all'altra definizione e poi dovrei farvi vedere tutta la procedura, però qua ci sono 18 minuti, vedo che ne mancano 8 non so se c'è tempo per andare ad approfondire l'argomento, però ci sono dei tutorial su internet se andate alla mia pagina di facebook riuscite anche a trovarli, dove spiego in maniera un po' più semplice e sintetica se uno ha tempo e voglia la possibilità di poter poi arrivare a fare l'upscaling quindi alla zoomata mantenendo una qualità di risoluzione in pixel adeguata perché se io zoom il 200% è chiaro che decade la configurazione in pixel mentre avendo girato con una risoluzione due volte che è quella dell'alta definizione ho la possibilità di avere una risoluzione buona ecco se noi andiamo a vedere un attimino un po' un passo indietro io qua in questo momento ho fatto la zoomata qui c'è uno zoom si vede poco però purtroppo mi spiace che non rende però poi ecco mi allontano quindi vedete ecco questa è la risoluzione in 4K portata all'HD però la risoluzione che c'era prima nel momento in cui ho fatto la zoomata era buona giusto? è chiaro che o si usano delle macchine o delle procedure che permettono ai droni di fare lo zoom meccanico oppure come in questo caso lo facciamo a livello digitale le cose sono un po' diverse però è chiaro che con questo stratagemma si riesce a bypassare quella che è la impossibilità di poter fare una cosa di questo genere poi è chiaro che il 4K si presta alla manipolazione abbiamo già solo 4.000 per 2.160 abbiamo già 8 milioni di pixel se poi registriamo con un settaggio della GoPro in ProTune dove c'è la possibilità di avere una focale molto buona e la possibilità di registrare informazioni altissime di colori per poter poi essere manipolate ecco che allora riusciamo anche ad avere attraverso Camera Raw la possibilità di gestire un'infinità di colori che sono impensabili fino a ieri poi vi farò vedere degli esempi ecco anche qui c'è una zoomata grazie a tutti E' chiaro che immagini suggestive come queste danno una grande emozione per chi guarda, per chi cerca di trasmettere un proprio sentimento che anche nella corsa ha un suo significato. Dovremmo tenere sempre le scarpe ben allacciate per essere molto forte. E' allacciato a chi vogliamo veramente bene e per consapevole di poter salutare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché laddove non arriva il drone, oppure dove ci sono dei spazi impervi, la barra che io ce l'ho da 5 metri e mezzo, però ci sono anche da 8 metri, da 13 metri, e ti permettono di fare dei lavori che hanno una loro qualità. ciò che prima non si poteva e non si riusciva a fare. Cioè cambiare prospettiva è importante secondo me, ha una sua logica. Cioè cambiare prospettiva è importante. Ecco, io qua con questo video volevo un attimino un po' far rappresentare quella che è la possibilità di utilizzo anche in un lavoro che può essere un lavoro professionale per in questo caso un runner. Poi non so, avete qualche domanda da fare, cioè vi interessa l'argomento, quali sono le tematiche di sviluppo, non so, chiedetemi pure, non c'è nessun problema. Ma adesso dipende sempre dalla compressione. Quello che abbiamo guardato adesso è 1,15 giga, però è chiaro che la compressione è per il web, però nasce con, cioè se guardiamo la compressione in ProRes 4.2.2, che è il formato di QuickTime, allora abbiamo un filmato di questo genere di un paio di minuti, può anche avere 9 giga. Ci sono anche delle immagini panoramiche che ho fatto recentemente, sono 700 mega. Dipende dalla risoluzione, è chiaro che cambia poi. Dimmi pure. Allora io per il montaggio uso Mac, quindi uso Final Cut. Però non la versione 7, uso Final Cut Pro X, l'ultima versione, con diversi plug-in. Poi è chiaro che di supporto, a seconda di quello che si vuole fare, uso anche After Effects oppure Photoshop stesso. Infatti Photoshop, da quando hanno iniziato ad avere la release CS6, ha iniziato anche a importare i formati video, per cui le elaborazioni di correzione colore si possono fare anche con Photoshop. e possono uscire delle cose eccezionali, tipo... Adesso vediamo se riesco a beccare... Questo è un timelapse... Questo è un timelapse... Per fare un lavoro del genere ci vuole un casino di tempo, ve lo dico subito perché non è una cosa semplice. Bisogna stare lì mezz'ora, anche questo elaborato. Grazie. 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 Allora, come vedete qui ci sono dei colori molto surreali. io siccome vivo in un mondo oggi che non mi appaga quindi preferisco immergermi in un mondo surreale proprio perché il quotidiano è una gran cagata quindi viviamo un mondo un attimino un po' difficile e allora siccome tanti mi chiedono ma perché tu elabori con questi colori forti vabbè è un gusto mio personale mi piace manipolare e questi sono colori che sono dati dalla GoPro che però vengono poi elaborati con Photoshop io magari vi faccio vedere quello che succede che è successo oggi per farvi capire come si possono fare anche delle panoramiche di questo genere scusate che ho aperto allora voi qua vedete Venezia però se noi andiamo fatta oggi le due e mezza sono andato a Venezia e ho alzato il drone da piazza San Marco mi sono spostato circa una cinquantina di metri mi sono alzato 70 qui ho fatto un video in 4K e poi è stata sviluppata con Photoshop questa panoramica che è un automatizzato che mi permette di scegliere i fotogrammi e di metterli praticamente con Photomerge accoppiati è un'automatizzazione di Photoshop che permette poi di arrivare a questi risultati e questo è girato con il Phantom e la GoPro quindi un investimento che parliamo di 1500 euro non parliamo di investimenti enormi è chiaro che bisogna conoscere le tematiche per arrivare a questo siete interessati a questa cosa qua? non so allora allora io intanto cerco sempre Andrea lo sa di lavorare in sicurezza e è chiaro che come? si si beh è chiaro che comunque il Phantom può arrivare a quasi 200 metri di altezza e può arrivare anche a un chilometro e mezzo come ricezione si l'ho fatto anche più di una volta sono andato anche fin là poi è chiaro che se perde il segnale e se il GPS e se si sta lavorando in GPS e ha memorizzato il punto di partenza lui ha il coming home return to home in automatico e ritorna a casa a 25 metri di altezza e scende e fa tutto da solo questo se si spegne la ricevente se succede in qualsiasi problema diciamo che se non è se la ricevente non comunica più con l'apparecchio l'apparecchio comunque sente che non ha più chi comanda e lui torna a casa giusto? quindi in sostanza lui ritorna al punto di dove è partito e scende da solo quindi c'è sempre sempre se c'è copertura di GPS quindi non ci sono delle perdite assolute di segnale e così via però è chiaro che insomma sono sempre strumenti che hanno bisogno di un grande controllo e devono essere assolutamente tenuti in grande rispetto come vi ripeto quindi si c'è la normativa dell'ENAC che è una normativa ma non c'è l'attuativa questo cosa significa? significa che fin tanto che non c'è una legge una regolamentazione che punisce il cittadino per X non non c'è l'importante è essere coperti da un'assicurazione nel momento in cui si vola che se si fa del male non si rischia il penale perché se tu vai addosso a qualcuno insomma c'è sempre un rischio in quel senso però da parte dell'ENAC è vero c'è questa normativa che è uscita che in teoria tutti dovrebbero essere a terra se non sono se non si ha un patentino e non si ha l'abilitazione con i mezzi omologati da loro dovresti non però anche lì in quel caso c'è ancora molta confusione non c'è una una sicurezza in questo tipo di argomento al momento sta nel nel buon senso di chi pilota nel non mettere a rischio e a repentaglio le persone che lavorano con questi mezzi ecco bisognerebbe sempre andare dove non c'è gente ecco io in questo caso ero lì in piazza San Marco ok il mezzo a me dava pieni satelliti ero tranquillo mi sono alzato un attimo visto che rispondeva molto bene e poi ho fatto tutto il mio lavoro però il mio lavoro è stato lontano dal poi è chiaro che sono dovuto atterrare però insomma si cerca sempre un po' di buon senso ok bene grazie